bello a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video io sono Beppe Chanel e tanti dopo tanto tempo vi faccio vedere cosa mi consiglia lo chef ok buona edizione ragazzi buonasera e benvenuti un'altra volta nel video dei consigli dello chef che questa sera mi consiglia guardate qua un bel cornetto argida ok andiamo ad aprire questo l'olio con la spazzatura e me lo mangio insieme a voi guardate qua tutto pieno di noce cioccolata, bello buono ragazzi e che vero di affare e attimo da proviamo Buono 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 Grazie Non sapete cosa vi state perdendo eh? Ma mai Io poi per il connetto agida Vado sempre matto Quindi Viva l'agida e viva i connessi Viva l'agida Viva l'agida Il ragazzi, ottimo proprio ah ah, mi sto gustando ah ah, veramente un bel cornetto oggi ragazzi, è buonissimo no buono, è buonissimo no buono no buono e ora arriva la parte più buona perché sotto c'è anche la cioccolata no buono ragazzi, poi io ho fatto pazzo per la cioccolata ragazzi, mi sono gustato ho questo bel cornetto dell'agida e spero che questo video vi sia piaciuto ok? un bacio da me e al prossimo video ciao se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e spollisate in tanti ok? ciao